Siamo entrati nell'addirittura d'arrivo, adesso calma. Innanzitutto, delle regole, poche. Allora, quando finiamo, cercate di aiutarmi e di aiutarci. Io sparisco, loro anche, perché? Perché? Per due motivi. Primo perché è molto sbagliato che ci sia l'assalto delle congratulazioni, delle strette di mano, della fammi la facciamo la foto insieme. Perché qua i protagonisti siete voi. Siete voi che dovete alzarvi e stringervi la mano e dire bravo, cazzo cosa abbiamo fatto, bravo. Non noi che siamo qui, ok? Primo. Secondo, obiettivamente, io no, perché sono bionico, ma loro sono distrutti, ok? Quindi non possiamo rimanere qui col capannello intorno. Dobbiamo veramente andare via, poi c'è da fare un sacco di roba burocratica. Quindi per favore, veramente, evitiamo alla fine questa cosa. Adesso cominciamo con le domande. Ripeto, ancora, noi abbiamo delle domande quali state, sono altri tre fogli. Se ce la facciamo, bene, chi rimane fuori non si arrabbi. Però, visto che sarò io a fare le domande, quindi sarò fulminio, voi cinque, ne manca uno, speriamo che arrivi, dovete essere veramente brevi, perché abbiamo questa ora e mezza, ora e tre quarti, e le domande sono tutte molto, molto importanti. Allora, cominciamo dalla prima, che è essenziale. Perché l'Inghilterra, pur con moneta sovrana, non mostra ottime prospettive economiche? Perché l'MMT dice invece... Cattiva politica economica, troppa austerità fiscale. Gli inglesi hanno fatto proprio gli errori di cui parlavo prima. Si sente spesso il ministro del tesoro inglese che dice, se non tagliamo la spesa diventiamo come la Grecia. Allora, un suicidio auto-inflitto nel caso dei britannici. Ancora peggio della vostra situazione, perché loro avrebbero la possibilità di salvarsi. Ok. Allora, come si concilia la piena occupazione nella MMT con la inflazione del costo del lavoro? L'MMT si concentra sul livello aggregato dei prezzi e ovviamente l'inflazione aggregata, cioè l'inflazione all'indice di prezzi al consumo, che misura tutti i prodotti e i servizi comprati dai consumatori. E questo dipende da molte cose. Non ultimo, e questo riguarda gli Stati Uniti che conosco meglio, l'energia, la sanità e l'edilizia abitativa, residenziale. Se ci sono degli shock esterni, delle bolle delle materie prime e speculazioni che fanno aumentare i prezzi degli alimenti e dell'energia, allora questo ha una ripercussione sull'indice inflattivo. Prima di arrivare alla piena occupazione e indipendentemente da qualunque pressione inflazionistica sui salari. Anche secondo il modello neoclassicista, se volete, ci possono essere incrementi dei salari senza avere inflazione. Gli ultimi 15-20 anni hanno dimostrato in Europa e negli Stati Uniti che sono successe molte cose a livello di produttività e scarsi incrementi a livello dei salari, per cui c'è una contraddizione, anche secondo il modello neoclassicista. Precisa per i nostri cinque redattori che potete tutti rispondere in brevissimo a ciascuna domanda. Però contributi molto brevi. Volevo fare una brevissima aggiunta a quanto è già stato detto precedentemente. All'LMMT piace di parlare di inflazione dal punto di vista dei vincoli sulle risorse e la mancanza di capacità produttiva. Il lavoro è una risorsa. Più la gente rimane disoccupata e meno è produttiva, più diventa non occupabile. E questo già di per sé può portare a una carenza di mano d'opera. Se si tiene occupata la gente, si minimizzano le pressioni inflazionistiche, perché abbiamo una riserva molto maggiore di forza lavoro cui attingere. Un brevissimo commento a questo riguardo. Innanzitutto, il vero tasso di inflazione in Europa ora è estremamente elevato. Il tasso calcolato dalla Banca Centrale Europea non significa assolutamente niente. Se per inflazione noi intendiamo il calo del potere d'acquisto della gente sia in Francia che in Germania il tasso di inflazione è fra il 7% e l'8%. E perché? Perché, innanzitutto, le aziende impongono nei loro prezzi sempre un maggior profitto. Secondo, aumentano il proprio utile sui prodotti. E poi c'è da considerare la privatizzazione. Il costo delle utenze che è sempre in aumento. Terzo, a causa della cartellizzazione dell'economia europea si parla di concorrenza ma non si vuole una concorrenza assolutamente. Pertanto la domanda sta crollando. I prezzi continuano a aumentare anche per i prodotti alimentari. Perché? Perché l'obiettivo ufficiale è di avere un continuo incremento degli utili che determina un aumento del valore delle scorte e del patrimonio finanziario. Inoltre dato che i governi continuano ad aumentare la tassazione sul valore aggiunto ed è ovvio che questo genera un automatico incremento dei prezzi. perciò la banca centrale europea potrebbe essere soppressa è inutile assolutamente inutile come Maria Antonietta e Luigi 16. cerchiamo anche per guadagnare tempo di restringere gli applausi dai non facciamo come Fabio Fazio che è una roba che io non guardo la televisione ma tutte le volte che passo a casa di mia madre ci fa più facile questa gente che in tre secondi spaccherà il televisore dai non la parliamo se usciamo dall'euro riusciremo a sostenere i costi delle importazioni in particolare i costi energetici con la nuova lira di Valued io direi di sì direi di sì perché l'Europa adesso importa energia soprattutto dalla Russia diciamo il 70% del gas e dall'Arabia Saudita e né i russi né i sauditi vogliono gli euro e come vi dicevo se l'Italia fosse avesse veramente un governo abile socialista democratico si riprenderebbe la propria indipendenza un po' come ha fatto Garibaldi quando ha unificato l'Italia su base popolare l'euro ben presto scomparirà e il problema dell'Italia non è che la lira potrebbe potrebbe svalutarsi non è questo la nuova lira potrebbe essere rivalutata proprio in vista del gran entusiasmo per il nuovo grande miracolo italiano c'è una domanda che dice il fondo monetario internazionale chiede a noi il pareggio di bilancio perché chiedono alla Cina di andare in deficit in fondo monetario internazionale vorrebbe che la Cina comprasse più prodotti americani e la sua richiesta alla Cina è di commettere suicidio aumentando il valore della propria moneta quindi ci sarebbe lo stesso suicidio che il fondo monetario degli Stati Uniti hanno chiesto al Giappone di commettere nel 75 con gli accordi nell'85 con gli accordi che hanno portato allo scoppio della bolla non c'è possibilità che la Cina sia abbastanza stupida da agire come un paese del terzo mondo commettendo suicidio in questo modo gli americani non assassineranno la Cina mettendoci un dittatore come hanno fatto in certi paesi dell'America Latina con poco non guardate più Fabio faste per favore basta con poco sviluppo ah scusate sorry volevo parlare penso che sia molto più semplice di così il Fondo Monetario Internazionale ha posto delle restrizioni sulla spesa governativa dei paesi occidentali o ci ha provato per lo meno quasi dappertutto e come abbiamo notato uno dei pochi ambiti che sono rimasti nella Unione Monetaria Europea riguarda soprattutto il settore estero e ci sono solo due candidati possibili a ovvi di paesi che possano accettare un deficit della bilancia dei pagamenti paesi che hanno un'eccedenza del bilancio commerciale come per esempio la Germania e la Cina quindi ritorniamo alla idea del bilancio settoriale quindi praticamente la Cina dovrebbe fare così per dare agli altri mercati uno sbocco per le proprie esportazioni e per certi versi il Fondo Monetario Internazionale è totalmente corrotto come istituzione il nuovo responsabile dell'FMI la Madame Lagarde è una ex consulente legale di Goldman Sachs e questo già vi racconta tutto quello che c'è da sapere sul Fondo Monetario Internazionale con poco sviluppo e con forte dipendenza da risorse estere c'è un paese che ha poco sviluppo e dipende molto dalle risorse estere materie prime eccetera la MMT è sostenibile? questo paese produce tantissimi prodotti che la gente vorrebbe possedere è un paese in cui la gente adora viaggiare è la trentesima volta più che vengo in questo paese prendete tutti i miei dollari canadesi tutte le volte che vengo penso quindi che nel primo caso i termini commerciali si sposteranno molto a favore dell'Italia e questo gli permetterà di avere tutta la valuta estera necessaria per comprare le materie prime confrontatevi alla maggioranza dei paesi del mondo che riescono hanno il petrolio tanti paesi africani poveri che hanno il petrolio e perché perché l'Italia pensa di non potersi comprare il petrolio insieme alla Germania voi siete il paese più industrializzato d'Europa ok c'è una domanda che dice secondo voi quali sono i punti deboli dell'MMT ci provo io il punto debole è che molto spesso diciamo che il governo serve soprattutto per mobilitare le risorse a fini pubblici e se il governo è profondamente corrotto o disfunzionale allora diventa molto più difficile poter adempiere a questa funzione pertanto penso sia molto importante per l'MMT proprio cercare di integrare un qualche tipo di riforma politica in maniera da poter riuscire a raggiungere questo obiettivo e colmare quella che è la sua principale lacuna a questo riguardo vorrei fare un'osservazione la corruzione dei governi è sempre esistita ma ho studiato questa questione e ho visto che più si impongono delle restrizioni sulla sovranità e più corruzione c'è perché il risultato finale del Fondo Monetario Internazionale la politica europea eccetera mira proprio a trasferire tutte le funzioni dello Stato ai monopoli privati o cartelli e un mio amico un messicano che noi conosciamo ha studiato il risultato della privatizzazione per il Sud America io ho studiato il risultato della privatizzazione per la Francia il risultato è stato questo un crollo totale della qualità dei servizi e un aumento dei profitti per i cartelli privati e una corruzione dilagante dappertutto fra i politici ed è esattamente quello che è successo al tempo del crollo dell'ex Unione Sovietica con il governo di Yeltsin con i suoi consulenti di Harvard volevo sollevare il punto fondamentale che secondo me viene posto a tutti noi che ci occupiamo di questi argomenti negli Stati Uniti e lo stesso sottolineato poi da Marshall una personalità televisiva molto nota sei mesi fa ha cominciato a interessarsi al nostro lavoro e la prima cosa che ha scritto è stata estremamente critica l'obiezione principale che sollevava era come potete dire alla gente che il governo può spendere senza limiti e accreditando i propri conti non ha bisogno di tassare o di prendere a presto denaro per spendere questo porterebbe a un capitalismo cronico quando i funzionari governativi scoprono questo andranno fuori di testa chi c'è ci comincerebbero a fare favore gli uni con gli altri dando soldi a destra e a sinistra come pazzi non lo fanno già la cosa migliore dell'MMT è di far sì che la gente capisca che il governo non ha dei limiti finanziari perché allora quando poi si cerca di fare dei cambiamenti gli stati dicono sempre gli stati vogliono sempre imporre dei sacrifici alla gente dobbiamo risolvere il deficit è un periodo difficile non possiamo più offrire servizi sociali non possiamo occuparci degli anziani finanziare i programmi di formazione e gli americani se la bevono che il governo federale è un po' come una famiglia deve far quadrare i conti certo e quindi capiscono e dicono vabbè ci sacrifichiamo dateci meno benefici meno sanità meno questo e meno quell'altro licenziate gli insegnanti dalle scuole ma l'MMT fa capire a tutti quanti come stanno le cose non solamente ai politici ma anche alla gente che non ci sono limiti finanziali e quindi toglie la scusa di fondo al non agire per la gente pertanto per certi punti di vista è percepita questa come una debolezza ma io penso che sia uno dei massimi punti di forza della nostra teoria allora questa è una domanda che lo so forse Randal Ray era più indicato rispondere ma magari voi semplicemente questo un nome di un economista italiano o più economisti italiani al quale fa presentare un piano alternativo al default all'Italia se conoscete non so che Randi ha più esperienza diretta con l'Italia però magari anche voi conoscete Andrea Terzi che insegna a Lugano Paolo Sardoni Gennaro Gennaro Sisa se così abbiamo capito bene il nome tutti ottimi economisti ce ne sono probabilmente altri con Z con Z Z Z Z Z Z Z Z Cesarato don't know you don't know him Cesarato no ce ne sono tanti una domanda qui ok ok MMT si fonda sul principio che solo lo Stato può creare ricchezza al netto ma la Borsa la domanda è ma la Borsa non determina lo stesso effetto quando un titolo si apprezza non è tanto che lo Stato crea ricchezza è che lo Stato fornisce le risorse finanziarie illimitate necessarie per creare ricchezza nell'economia reale e questa è una distinzione importante da fare dovete capire che il ruolo della Borsa a questo punto e a questo punto l'amico Jimmy Galbraith e Warren Mosler sono tutti e due d'accordo con me che cosa fanno le Borsa creano numeri numeri nei computer e basta praticamente è tutto finito è un'illusione e adesso in Europa come ho cercato di spiegarvi si potrebbe avere la scomparsa totale dell'economia reale ma il valore delle borse potrebbe aumentare per cui come ho scritto e sostenuto anche da Galbraith e da Warren Mosler le cose stanno così perciò perché una situazione di questo tipo permane? perché c'è tanto interesse per le borse alla fine del diciannovesimo secolo l'allora presidente del credit leoneso essere coinvolta con storie di borsa deve essere sempre interessata al debito pubblico il debito pubblico è oro è da lì che vengono i soldi volevo chiarire un punto sull'ultima domanda io mi chiedo se la questione non riguardi piuttosto al fatto che l'MMT dice che il settore privato non riesce a creare ricchezza finanziaria netta e la questione quindi relativa alle azioni che aumentano di valore è perfettamente in linea con l'MMT le azioni vengono emesse da un'azienda privata quindi un ente privato e quindi praticamente il settore privato non può creare una ricchezza netta la professoressa Kelton nella sua presentazione ha mostrato che quando il governo è inattivo a un'eccedenza questo diventa praticamente impossibile per il settore privato arrivare a una piena produttività ok domanda come rinegoziare il debito in caso di se questo debito è stato spostato a una giurisdizione estera come nel caso della Grecia dove una buona parte del debito outstanding è passato sotto giurisdizione inglese questo pone un problema molto serio in caso di default e di ritorno a moneta sovrana complica le cose ovviamente se avete degli asset che sono difficili da riprendere in un paese estero l'Italia si trova in una situazione molto più facile rispetto alla Grecia a questo proposito e per questo vi dovreste opporre estrenuamente a qualsiasi sforzo da parte del nuovo governo italiano a fine a fine di creare nuovo debito per l'Italia che poi sia esposto a questo genere di pressione esterna anche se il debito comunque è spostato all'estero se gli asset principali che devono essere sequestrati per attribuire valore si trovano in Italia di norma non hanno un modo efficace per accedere a questi beni con l'opposizione attiva del governo nazionale e questa è l'ipotesi quindi che voi siate rientrati in controllo del vostro governo almeno fin tanto che non ci troviamo nella situazione della Grecia io ritengo che la regola sia che i politici greci debbano essere incriminati per alto tradimento nei confronti della Grecia del popolo e dello stato greco perché un primo ministro greco socialista ha accettato che l'intera economia greca sia adesso controllata supervisionata da degli ispettori nominati dalla commissione europea e quindi siamo ritornati agli ultimi tempi dell'impero ottomano quando i francesi e i britannici controllavano totalmente le finanze dell'impero ottomano oramai moribondo che progresso che progresso allora siamo ritornati alla seconda guerra mondiale quando c'è stato un governo fantoccio da parte dei tedeschi esattamente e non va mai dimenticato che c'è anche una questione una domanda che pochissime persone osano fare i più grandi proprietari di immobili in grecia sono la chiesa ortodossa la chiesa ortodossa non paga le imposte e da quanto mi consta la chiesa e i socialisti greci che hanno dato supporto durante la guerra civile greca allo sterminio di un milione di persone da parte dei monarchici dei fascisti e dell'esercito britannico allora una domanda che riguarda le monete complementari ok sono utili possono funzionare le monete complementari non so se da voi in America sapete cosa sono cioè ci sono delle esperienze hold on hold on don't wait a minute let me explain le monete just a sec ok ci sono delle esperienze in Italia ma anche fuori dall'Italia dove delle comunità hanno creato una propria moneta pensando di poter aiutare in caso di depressione economica ma queste monete locali possono aiutare in qualche modo sì queste valute esistono già da molto tempo in diversi luoghi ne abbiamo anche noi una piccola versione nel dipartimento di economia dell'università del Missouri e in Italia non è un problema ma se avete sia la nuova lira che l'euro in questo modo avrete nuovamente una leva se avete il debito contratto in euro avrete ancora una volta una leva sul mercato del debito e credo che sia ciò che è opportuno fare ma c'è di peggio io sono a conoscenza di una soluzione ma se la attuassimo ritorneremmo al primo medioevo quindi dicevo al medioevo si tratta di accettare lo smembramento dell'Italia per ritornare all'Italia prima del risorgimento non credo che sia una soluzione sostenibile ma questa politica di disintegrazione dello Stato è apertamente sostenuta dalla Commissione europea che è ossessionata dal regionalismo e come vi ho detto questo riporterebbe all'alto medioevo facciamo una regola che accettiamo due esperti che rispondono a ogni domanda e non di più se non vi dispiace perché in effetti se no magari capita che con ok allora no no va bene questa è una domanda importante per noi italiani se tornassimo alla lira sovrana il problema della fuga dei capitali all'estero cioè scapperebbero i capitali dall'Italia cosa potrebbe succedere in quel caso non vedo motivo non vedo motivo di alcun tipo di fuga di capitale la fuga di capitali dove devono andare questi capitali questa fuga di capitali effettivamente è esistita pochi pochissimi sanno che prima dell'entrata in vigore dell'unione monetaria europea io penso che più l'Italia mantiene il sistema dell'euro e più i capitalisti che non sono stupidi e che sono più furbi dei burocrati europei ci sarà sempre più fuga di capitali una fuga gigantesca ma dove? soprattutto negli Stati Uniti una fuga negli Stati Uniti l'unico modo per prevenire questo dissanguamento è di ricreare l'Italia la sovranità italiana lo Stato italiano forse Alan ha ragione ma è possibile che possa essere necessario introdurre dei controlli temporanei sul capitale non sarebbe una cosa poi tanto negativa l'hanno fatto in Malesia subito dopo la crisi finanziaria del 97-98 e il paese si è rimesso in piedi ha prosperato molto felicemente dopo l'introduzione di questi controlli quindi potrebbe essere necessario fare un'esperienza temporanea di questo tipo non parlo di nulla di permanente la cosa importante è di avere dei controlli per evitare che i capitali entrino nell'Italia ok allora domanda nel 1982 il Messico fece default pur avendo una moneta sovrana non è vero il Messico ha pagato la sua valuta al dollaro praticamente ha pagato il suo fio alla valuta statunitense a livelli enormemente sopravvalutati è questo che ha creato la crisi non era in libera fluttuazione il Messico non ha mai fatto default nell'82 ha minacciato di fare default e gli americani sono arrivati e hanno introdotto il piano Brady proprio per svalutare tutto il debito latinoamericano in larga misura ma se il Messico avesse fatto default la Citibank e le banche americane sarebbero andate in fallimento per cui gli americani dissero al Messico non fate default vi aiutiamo noi vi pagheremo tutto quello che volete ma non fate default e non distruggete il nostro sistema bancario la Slovenia è un caso da imitare e possiamo avere il nome di questo economista che ha fatto il piano che hai citato oggi mi ha interessato molto la Slovenia come modello potenziale per altri paesi dell'Europa meridionale quindi ho contattato un economista che per molti anni ha vissuto e insegnato per varie anni a Bologna un professore di economia al Living Institute era fra l'altro stato professore di Randall Ray per qualche tempo e ha lavorato anche alle Nazioni Unite nella Trade and Development Commission per cui gli ho chiesto se ci fossero degli esempi nel mondo reale di paesi che avevano fatto default sul proprio debito e che avessero da essere utilizzati se che potessero essere utilizzati da esempio per altri e lui mi ha risposto l'unico esempio che io ho è la Slovenia io non so abbastanza della Slovenia ancora per potermi pronunciare a riguardo un paio di studi che ho pensato di leggere quando tornerò a casa tutte le informazioni delle persone che hanno redatto il piano un piano ben fatto dedicato tantissimo tempo alla realizzazione di questo piano e apparentemente ha funzionato senza grossi intoppi per cui sì posso dire sì che la Slovenia potrebbe effettivamente servire da esempio per un prossimo futuro il nome scusate ma dobbiamo scambiarci dovete avere un attimo di pazienza grazie allora per il nome ci siamo cercate Stephanie ce l'ha nell'email però adesso qui non possiamo fare il collegamento per cui possiamo vedere se riusciamo a trovarlo in qualche modo qui c'è il wifi però c'è una password che è allucinante non so chi l'ha messa è una password così ok ok adesso pigliamo un pc e lei lo va a vedere ok prossima domanda prossima domanda un'opinione un'opinione sulla proposta fatta se non mi sbaglio da Juncker e Tremonti degli euro bond come una delle soluzioni alla crisi del debito europeo what's up no translation there's no signal non c'è la traduzione ragazzi non si sente la traduzione in cuffia la are you hearing anything ok ragazzi da PNP qui non arriva il segnale dalla cabina alle cuffie all right ok yeah all right yeah you know our former finance minister Tremonti and I think it was Juncker one of the guys that devised this idea of the euro bonds as one of the solutions to the european debt crisis so at least to the fiscal difficulties in europe can you comment on that I could comment briefly because at the time I had to invite the European investment bank to comment on this program to comment on this program there were two conflicts si trattava di due programmi sugli euro bond diversi in conflitto per così dire il primo lo nero a favore e si trattava di euro bond che dovessero essere acquistati dalla banca centrale europea e le risorse a questo punto venivano poi erogate alla Grecia o altri ma un'altra ipotesi era stata presentata ed è stata questa l'ipotesi che ha prevalso e cioè la BCE non avrebbe assolutamente dovuto essere coinvolta secondo questa proposta la Francia e la Germania avrebbero dovuto emettere titoli acquistati poi dalle banche e le risorse sarebbero state poi per così dire riciclate verso crediti erogati alla Grecia e con il denaro la Grecia avrebbe pagato parte del suo debito il sistema era in ultima analisi stato completamente rifiutato da parte della commissione europea perché in primis perché questo sistema avrebbe prodotto un aumento del debito a livello paneuropeo e poiché avrebbe potuto prevenire impedire alla Grecia di fare abbastanza deflazione alla sua economia e quindi si è pensato che il sistema eurobond dovesse assolutamente essere messo fuori discussione e neanche mai applicarlo allora bene questa è una domanda che riguarda proprio specificamente l'Italia in Italia c'è molta pubblicità televisiva da parte di alcuni personaggi alcuni personaggi che dicono che per rimettere le cose a posto in Italia dal punto di vista dei bilanci basta recuperare l'evasione fiscale combattere la corruzione e combattere il lavoro nero e questo è giusto è sufficiente no no perché il bisogno attuale attualmente non è quello di aumentare il gettito ma aumentare la spesa ora non voglio assolutamente sminuire l'importanza della corruzione che rimane importante però l'ho già detto cioè in Italia c'è stata come in tanti altri paesi corruzione per diversi decenni c'è tuttora da diversi decenni comunque il paese è stato in grado di vivere in maniera assolutamente prospera nei 50 60 70 negli anni 80 anche con i livelli di corruzione che c'erano la differenza attuale è che adesso siete sotto la schiavitù per così dire dell'Europa e dell'Euro ok allora bene dunque qui abbiamo un'altra domanda che riguarda in particolare questa volta Pargue quindi relax ok un momento puoi specificare perché per quali motivi ci senti are you ok no ok ok for what reasons listen to me for what reasons italian politicians such as Prodi Ciampi Monti D'Alema Amato and so on accepted this relationship with the French and to be so corrupted by the French what did they gain in che modi e per quali motivi Prodi Ciampi D'Alema e compagnia Monti ci sono fatti corrompere dalla Francia cosa ci hanno guadagnato la ragione politica in primis tutte queste tutti questi personaggi erano intanto vicini a François Mitterrand e al regime di Mitterrand poi tutti questi hanno condiviso la stessa ideologia odiavano il cosiddetto miracolo italiano condividevano l'ideologia sponsorizzata e patrocinata dal Vaticano di una cura di austerità povertà imposta al popolo italiano proprio come Mitterrand costoro volevano come dire ricreare una nuova specie di italiani François Mitterrand diceva io odio ha detto io odio i francesi per come sono oggi e questi politici avevano la stessa opinione dei loro connazionali ok allora bene allora è corretto pensare che se non fosse stato per l'ultimo programma di esborso enorme di liquidità da parte della Banca Centrale Europea for payment of huge amounts of liquidity is it working yeah allora is it right to think that if it hadn't been for Mario Draghi's decision to infuse 480 something billion euros into bank reserves the actual well some of the countries here in Europe particularly Italy and Greece so even Spain would have defaulted by January è corretto dire sostenere che se non fosse stato per questa infusione immensa di denaro che ha fatto Draghi dalla BCE alle riserve delle banche europee Italia la Grecia e forse anche la Spagna avrebbero fatto default in gennaio non so cosa sarebbe accaduto in gennaio però oppure se sarebbe accaduto in gennaio però effettivamente non c'è dubbio che gli interventi hanno stabilizzato le condizioni almeno in maniera temporanea Draghi è molto vincolato in termini di ciò che può fare da un punto di vista politico perché in un qualche modo è molto le sue mani sono molto legate ai desideri della Bundesbank e in un qualche modo ha reagito a questa crisi con un certo livello di creatività diciamo però ha diciamo affrontato il problema dell'assolvibilità solo a livello temporaneo e di sicuro non ha affrontato il problema della domanda aggregata insufficiente eppure questo invece bisogna fare se si vuole far sì che la crisi scompaia questa crisi questa crisi ci viene descritta sempre come un bailout della Grecia ma sempre più in realtà la risposta europea è stata quella di cercare di salvare invece le banche non la Grecia il bailout delle banche delle banche soprattutto quelle tedesche ed è questo ciò che accade e aggiungerei anche le banche francesi perché ciò che è sempre più scandaloso è che quando si parla e si sente parlare sui media di stabilità di stabilità di che? per tutelare il benessere la ricchezza delle banche mentre invece l'economia reale sta diciamo piombando all'inferno a nessuno importa più nulla in questo dibattito della questione in realtà fondamentale e cioè perché esiste la valuta esiste la moneta e ritorno alla mia analogia con la fine dell'anzian regime l'euro potrebbe anche essere salvato per un po' di tempo ma l'economia europea il popolo europeo a quel punto però saranno morti allora will american and japanese debt public debt sovereign debt will it be sustainable forever is it is it sustainable forever just because they got a sovereign currency fino a quando sarà sostenibile il debito di uso a giappone solo perché hanno monete sovrane sostenibili all'infinito all'infinito è un po' lunga detto questo ciò che promettono entrambi i governi di questi due paesi è di prendere una forma dei loro io ti devo IOU cioè i titoli di stato poi e metterne invece un'altra forma di IOU di io ti devo dei crediti sui conti bancari il che già viene fatto nel mondo reale come con un tasto sul computer non è che devono battere moneta o poi inviare delle belle banconote a chi detengono i tini no semplicemente accreditano i loro conti corrente semplicemente premendo un tasto sulla tastiera del computer e poi aggiungono le cifre nel bilancio finale quando queste persone alla fin fine non ci saranno più saranno in pensione saranno morte beh a quel punto potranno riprendersi il tutto e inviare che so un altro IOU un altro io ti devo che non so che chiameranno denaro finché il debito è denominato in denaro sovrano non potranno mai esaurire la possibilità di battere su un tasto del computer quindi è in effetti permanente vorrei aggiungere una cosa rispetto a questo cioè che c'è una capacità infinita di restituire di rimborsare il debito l'unica questione che potrebbe soggere è la volontà di pagarlo è un'altra questione se gli Stati Uniti il congresso degli Stati Uniti dovesse decidere di rifiutarsi di estendere il tetto del debito come è successo circa un anno fa allora a quel punto gli Stati Uniti potrebbero decidere volontariamente di fallire di andare in default però a questo punto sarebbe una seccisione completamente separata rispetto alla capacità di pagare bisogna distinguere fra le due cose capacità e volontà l'unico caso di cui noi siamo tutti a conoscenza è di un paese sovrano che abbia deciso di fare default su un debito sovrano con una valuta corrente legale fiat è stato il Giappone dopo la seconda guerra mondiale il Giappone lo ha fatto perché ha deciso che non voleva più rimborsare non voleva più ripagare agli Stati Uniti il loro nemico della guerra avrebbe anche potuto farlo in realtà ma il Giappone ha scelto di non farlo e questo è quello che dice Marshall cioè c'è sempre la capacità di rimborsare ma a un certo punto può uno decidere di non voler rimborsare anche al momento dello standard d'aureo in realtà fino a diciamo 1940 finisco questo e poi dopo scusatemi però tutti i paesi avevano deficit enormi durante lo stanza d'aureo questo va ricordato una domanda qui credo che sia Black sentite adesso la traduzione una domanda credo che sia Black la può rispondere meglio di tutti i privati e credo che qui si intenda i fondi di investimento privati possono usare i fondi di pensione per propri scopi come possiamo difenderci non è necessario difendersi dai mercati del credito se si ha una valuta sovrana e se il proprio debito è denominato in questa valuta in questo caso non ci sono tassi di interesse non sono certo di aver capito bene la domanda la domanda era i privati credo che si parli in questa domanda dei fondi di investimento privati possono usare i fondi di pensione pension funds per propri scopi come possiamo difendersi credo di aver capito nel caso di attacchi speculativi contro la valuta o qualcosa del genere credo che sia un problema che si riferisce più agli hedge funds che ai fondi pensionistici di per sé però è sempre possibile approvare delle leggi in modo da eventualmente ovviare a questo problema le valute fluttuanti sono veramente dei pessimi bersagli per gli speculatori credo che credo che questa persona si riferisse come all'esempio di un'esempio 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 finanziario toxic è possibile? questo è più un problema in termini di creazione del prodotto ed è per questo che noi diciamo che in caso di una riforma finanziaria dovremmo andare a limitare la gamma di attività che possono essere svolte contro l'interesse pubblico come per esempio l'acquisto di mutui subprime credo che sia stato Paul Volcker che abbia detto che anche solo una volta vorrei vedere quali sono i presunti vantaggi di questi derivati finanziari dimostrati da qualcuno e credo che non ci sia una prova di questo genere noi ci allineiamo a lui un minuto per cambiare le cuffie scusate abbiamo un problema il fantasma della Slovenia ci perseguita la Slovenia è entrata e uscita dall'euro non è nell'euro la Slovenia è in l'eurozone è in l'eurozone è in è in l'eurozone l'eurozone è in l'eurozone quello che ha fatto la Slovenia è stato lasciare un precedente accordo monetario lanciare la propria valuta questo è avvenuto nel 2001 hanno adottato una nuova valuta chiamata il tallero e poi l'hanno stampata per un certo periodo di tempo all'inizio degli anni 2000 fino al momento in cui sono entrate nell'EMU esiste esiste una possibilità di applicare l'MT nei paesi del terzo mondo bisogna innanzitutto definire se l'Argentina è un paese del primo o del terzo mondo ci sono state alcune variazioni in termini di introduzione del programma di garanzia del lavoro anche in India per esempio credo che si chiamasse la legge sul lavoro in cui cercavano di dare delle garanzie ai lavoratori nel settore agricolo ma in realtà a mio avviso rappresenta un problema maggiore in regione dove c'è una maggiore corruzione politica indubbiamente avete detto diverse volte che l'Italia non è come la Grecia ma quanto tempo abbiamo prima che il fiscal compact ci porti a un punto di non ritorno come in Grecia è un'ottima domanda io credo che potrebbe essere una questione di un anno o due se provano strenuamente ad attuare questo pacchetto fiscale allora sicuramente è un rischio concreto io spero che ci sarà una reazione politica e sociale sufficiente da indurre le autorità a cambiare il proprio corso d'azione credo che questa sarebbe la soluzione migliore non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa c'è stata una relazione molto interessante pubblicata dall'UNCTAD dalla Commissione delle Nazioni Unite sullo sviluppo e il commercio pubblicato l'anno scorso da un autore tedesco e la stavo rileggendo proprio ieri sera nella mia stanza in hotel e la relazione pubblicata dalla Commissione dell'UNCTAD di dicembre ammoniva di una grave possibilità di recessione in Europa e anche oltre all'Europa di una recessione economica mondiale che poteva potenzialmente diventare anche una depressione e l'intervista che ho visto ieri è stata svolta più di recente ed è più preoccupato adesso rispetto a quando ha scritto la relazione a causa dell'austerità che viene imposta in così tanti paesi e ha capito chiarissimamente le conseguenze macroeconomiche ne ha parlato negli stessi esatti termini che vi ho presentato io quindi concentrandosi sulla perdita di posti di lavoro la perdita di reddito la perdita di vendita la perdita di gettito fiscale e un deficit che cresce sempre più la crescita dei tassi di interesse e del debito a suo parere la situazione è così grave che prevede persone per strada non solo in Grecia ma anche in Portogallo e addirittura in Francia ok allora il fatto che molte banche centrali europee e anche americana se non mi sbaglio hanno partecipazione privata questo è un fatto che incide in negativo è qualcosa che è in conflitto con la MMT sicuramente c'è un conflitto di interesse perché c'è un ruolo privato all'interno della Federal Reserve i consigli d'amministrazione delle banche centrali sono controllati dalle banche stesse e gli investigatori degli Stati Uniti e sono degli investigatori governativi non delle persone di sinistra estrema hanno visto che questo conflitto portava a dei veri e propri problemi quindi il mantra delle banche centrali ovviamente è indipendenza 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 dalla politica ma dipendenza totale dal settore bancario e quindi sì è un problema le banche centrali sono ostile proprio per questo motivo in parte sono ostili alla modern monetary theory ma sapete di non dover fare affidamento sulle banche centrali sapete che sono i vostri oppositori comunque qualche mese fa un senatore estantunitense Bernie Sanders ha riunito una commissione che gli fornisse consiglio su come fosse possibile riformare la Federal Reserve per affrontare appunto questi temi la commissione era composta da 14 o 15 economisti provenienti da tutti gli Stati Uniti e sono orgogliosa di dire che l'MMT è ben rappresentata in questa commissione ci sono quattro economisti dell'MMT nella commissione Sanders per la riforma della Fed e nei prossimi mesi noi faremo del nostro meglio per spingere per l'appunto per questi generi di cambiamenti che sappiamo essere così improrogabili conoscete la teoria del signoraggio bancario dove si pensa che le banche centrali creano denaro a costo zero e lo vendono a costo reale agli Stati e per impedire questo il Presidente Jefferson e Kennedy furono uccisi nel tentativo di impedire questo i Presidenti Kennedy e Jefferson furono uccisi esiste la riserva frazionaria come fenomeno di signoraggio delle banche private private banks onto the States no i governi sono assolutamente favorevoli al signoraggio perché ci guadagnano per certi versi come ha indicato e quindi non hanno dovuto ammazzare i Presidenti a causa della loro opposizione a quest'idea devo devo anche aggiungere che la teoria del signoraggio è un'idea che ha già una certa età un'idea che è stata inventata dal cosiddetto profeta del nuovo ordine europeo Friedrich Augustus Hayek è una teoria classica di vecchio stampo e devo confessare di non averla mai capita non ho mai capito la teoria del signoraggio dico una cosa molto seria ma non sto scherzando perché in Italia il signoraggio è preso molto sul serio purtroppo ma seriamente io vi giuro che non ho detto una parola su questo loro non li ho preparati a rispondere attenzione è una risposta del tutto spontaneo lo dico proprio sul mio se si tornasse alla lira le banche non sarebbe meglio che diventassero nazionalizzate pubbliche beh in linea di massima tenderei ad essere d'accordo dipende dalla missione attribuita alle banche centrali nazionalizzate l'esempio da non seguire è stato ciò che è accaduto in Francia dal 1982 fino al 1986 o 7 il regime Mitterrand ha nazionalizzato la maggior parte delle banche ma perché l'ha fatto? perché le banche private avevano fallito a causa delle attività speculative scandalose però le banche una volta nazionalizzate hanno continuato a comportarsi esattamente come quando erano banche private e quindi alla fine è stato un fallimento su tutta la linea e quindi ancora una volta questo ci dice che è una questione politica il controllo delle persone sul governo ok prossima domanda allora bene me la sono persa allora ecco c'è un apparentemente una contraddizione che è emersa dalle relazioni di questi due giorni se è vero che l'asse franco tedesco che ha realizzato l'euro sta distruggendo in effetti le basi industriali dell'Italia e dei paesi PIGS eccetera se è vero che l'euro è un progetto criminoso allora anche la Francia e la Germania hanno costretto se stesse alla perdita di sovranità monetaria non è una contraddizione ma questa contraddizione potrebbe essere spiegata effettivamente ci troviamo ad avere a che fare con degli psicotici ma dall'altra parte i governi francese e tedesco non hanno veramente ceduto la propria sovranità perché controllano il sistema quindi cedere la loro sovranità monetaria è stata semplicemente una scusa un modo per imporre la loro idea di fondo cioè di distruggere la democrazia e mi ripeto imporre un nuovo ordine che avevano in mente quindi ancora una volta ritorniamo ad un ordine ad una questione di ordine politico filosofico e quindi a mio avviso non c'è contraddizione la Germania e la Francia sono state disposte a sostenere la creazione dell'euro perché sapevano che avrebbero avuto il controllo totale sulla banca centrale europea la BCE sì e a questo proposito non è incoerente con l'MT perché l'MT dice che rinunciando al controllo sulla propria valuta non è possibile fare alcune cose e invece stiamo dicendo che di fatto controllano ancora le cose qua ci sono due domande sono collegate credo comunque il problema del fantasma del grande Stato del big government ok in Italia che ritorna la lira una possibile nazionalizzazione delle banche l'economia italiana dovrebbe essere anche questa in parte nazionalizzata lo Stato diventa troppo ingombrante ok lo Stato diventa troppo ingombrante c'è il rischio di questo mega Stato pubblico che è notoriamente più inefficiente rispetto ai privati credo che tutta questa discussione del large government del grande governo è perché le banche possano controllare e distruggere l'unico tipo di governo sufficientemente forte da poterle controllare se la pianificazione viene tolta dalle mani del governo passa automaticamente nelle mani delle banche le banche vogliono poter fare pianificazione quindi dipingono il governo come un mostro dicendo che c'è un rischio di avere un mostro ancora più grande che sostituisce questo mostro più piccolo una cosa che si può fare insieme è verificare se le banche sono pubbliche o private perché non possono essere così grandi da rappresentare un rischio accademico un rischio concreto e se sono più piccole hanno anche meno peso politico hanno meno potere politico anche se sono controllate dallo Stato come abbiamo visto nell'esempio francese quindi tenete le banche in una dimensione più ridotta che siano pubbliche o private il pericolo il pericolo che nel momento di un possibile default nel momento di panico ci sia una corsa ad accumulare delle valute straniere volendo creare depositi in franchi svizzeri eccetera eccetera che quindi questo ponga un problema importante all'Italia no non credo perché io ora posso testimoniare che il proprietario della del più grande capitale della più grande fortuna francese è già sta già preparandosi a un crollo dell'euro e c'è un enorme deflusso di capitali verso gli Stati Uniti le banche hanno già calcolato con dei modelli informatici la fine dell'euro sanno che il sistema non potrà sopravvivere ok una domanda per la MMT proprio se lo Stato fa da garante della piena occupazione ELR JG agendo da datore di lavoro di ultima istanza se poi non può più licenziare nessuno visto che le regole statali sono molto severe su questo nessuno poi vorrà più avere posti nel settore privato nessuno accetterà più posti di lavoro nel settore privato dove invece si può licenziare più facilmente ma non essendo un membro ufficiale dell'MMT posso comunque rispondere che il problema dell'Europa è che ora senza l'MMT circuitisti post-kenesiani il settore privato europeo non vuole più assumere lavoratori è stato deciso che verrà mantenuto questo assetto le aziende europee non sono più interessate a dare lavoro e a lavorare nell'economia reale e la vera e propria tragedia ancora peggiore di una tragedia greca è che i governi si stanno allineando esattamente a questo stesso assetto quindi ben presto l'intera popolazione sopravviverà con delle largizioni benevolenti di carità la garanzia del lavoro non dà una garanzia di un lavoro da cui non si possa essere licenziati se non vi presentate al lavoro se sei un'infermiera e fai del male alle persone vieni licenziata quindi è comunque possibile perdere il lavoro anche nel settore pubblico ok la domanda su che forse c'è stata risposta ma dice la crescita che non può essere infinita in un mondo che è finito e che nesso c'è qui con la MMT e come gestire questa cosa parlare di crescita la risposta la risposta è che la crescita che ci sono dei limiti alla crescita ci sono delle limitazioni di risorse reali e questo ovviamente non lo neghiamo ma la prima affermazione dell'MMT è che non c'è una limitazione finanziaria possiamo non essere in grado di fare qualcosa perché c'è una carenza di una data merce o di una data risorsa però questa è una questione molto diversa dal dire non possiamo fare qualcosa perché è fiscalmente insostenibile oppure non ce lo possiamo permettere perché potremmo fallire come una famiglia questo ovviamente non tiene e purtroppo queste limitazioni finanziarie sono state adotte spesso e volentieri per giustificare un'inazione in materia di politica fiscale però noi ci rendiamo conto che ci sia una limitazione delle risorse fisiche indubbiamente e un'altra breve integrazione perché io so conosco da lungo tempo il profeta del movimento anticrescita l'economista francese Latouche il problema è che il signor Latouche è un ex maoista ora consulente di Marie Le Pen un commento per favore sulla situazione ungherese dell'Ungheria paese con moneta sovrana maggioranza politica forte e con grandi difficoltà a proteggersi dai ricatti dell'Unione Europea del Fondo Monetario Internazionale Innanzitutto io capisco che in questo caso la valuta è agganciata all'euro quindi non hanno una sovranità totale c'è un altro problema per quanto riguarda l'Ungheria il paese mentre si stava preparando ad aderire all'Unione Europea e quando poi è entrato anche nella zona euro si è sentito dire come molti altri paesi dell'est Europa può prendere prestito in euro o in franchi svizzeri perché presto entrerai nell'Unione Monetaria Europea e comunque avrete dei tassi di interesse molto molto bassi e io l'ho visto accadere in molte economie emergenti guardano guardano il tasso di interesse e non si rendono conto invece che c'è anche il rischio valuta estera e nel caso dell'Ungheria ci sono dei mutui denominati in euro e in franchi svizzeri questo rappresenta un'ulteriore limitazione questo è ciò che dà all'Unione Europea un potere così forte assieme ovviamente ai fondi strutturali che gli hanno promesso che adesso usano come strumenti di ricatto ma probabilmente l'Ungheria non avrebbe mai dovuto intrattenere un accumulo di debito in valuta estera lasciando flottare il fiorino è un po' un problema simile a quello della Lettonia e le politiche etniche dell'Ungheria diciamo che gli hanno fatto molti nemici caso mai avessero ancora qualche amico ok qualche suggerimento su come contrastare il fenomeno della delocalizzazione delle aziende outsourcing of labor companies questo è il problema fondamentale di tutti quelli che cercano di emulare la strategia di crescita dell'esportazione tipica della Germania perché cosa porta porta tutto questo ad una corsa verso il basso tutti tagliano le retribuzioni per cercare di essere il più competitivi possibili è un gioco a somma zero perché se un paese abbassa le sue retribuzioni le abbassa sempre di più allora i paesi che hanno molta industria manufatturiera minacciano di trasferire le loro aziende quindi rilocalizzare le aziende altrove e quindi ancora si corre verso il basso è una corsa al ribasso bisogna invece promuovere delle politiche che non solo creino posti di lavoro ma anche aumento dei redditi la variabile forza lavoro è la scorciatoia per molte aziende per ingrassare i loro utili ma in ultima analisi è una strategia autodistruttiva quella di basarsi soltanto sulla riduzione della retribuzione perché questo in ultima analisi abbassa la domanda direi anche che la Germania ha smesso peraltro di relocalizzare le sue aziende all'estero perché trova a questo punto già abbastanza in casa e ha visto che per il tipo di produzione all'estero la qualità della forza lavoro all'estero non è granché meno rispetto a quella tedesca quindi a questo punto le aziende sono ritornate in Germania e se uno è un paese che mantiene un forte sistema di formazione tecnica di istruzione questo è un principio che peraltro gli americani avevano scoperto nel XIX secolo cioè la forza lavoro che viene pagata di più in realtà è più efficiente e più produttiva ok allora non andiamo avanti ancora molto perché immagino che molti di voi devono prendere treni macchine cose del genere per cui forse delle due è meglio restringere un pochino purtroppo le domande sono tantissime qui ce n'è una che dice in effetti anche tornando a una moneta sovrana rimangono molti altri organismi o istituzioni institutions intranazionali che influiscono sulla nostra economia politica come l'organizzazione mondiale del commercio il Bilderberg la commissione trilaterale il fondo monetario eccetera come si può sviluppare la MMT in un contesto di questo tipo questo forse non riguarda soltanto l'MMT ma tutti noi viaggiatori dello stesso viaggio la mia risposta a questo punto è ignoriamo queste organizzazioni internazionali pure e semplice se avete la lira non avete alcun bisogno di aiuto dalla banca mondiale né dal fondo monetario internazionale per cui tranqui ok allora ok sì c'è una due domande che le unisco il discorso della creazione di lavoro pieno occupazione non può portare per esempio al paradosso di creazione di posti di lavoro del tutto inutili pur di dare lavoro a qualcuno e appunto come si diceva prima il pericolo che ci sia una fuga dai posti di lavoro privati è una domanda che ci viene fatta spesso in realtà l'obiettivo del programma di occupazione nel settore pubblico è quello di trovare cose utili da fare cose che devono comunque essere fatte e che magari nessuno fa in questo momento non è un programma mirato a che so io a pagare qualcuno perché scavi una buca e poi la riempi la riempia di nuovo ho parlato del New Deal prima e vi ho dato un'idea anche un certo numero di esempi di ciò che è stato raggiunto negli anni 30 grazie al New Deal e grazie a quei programmi vi posso assolutamente garantire che effettivamente negli Stati Uniti e anche in Italia ma praticamente in ogni paese del mondo su cui potremmo mettere il nostro dito su una mappa ci sono tantissime cose utili da fare non c'è limite possiamo trovare cose utili da fare che aggiungano valore alla Soecia non si tratta di qualcosa di improvvisato e per sostenere quanto appena detto Stefani io aggiungerei che coloro che criticano questo tipo di programmi ignorano e peraltro la metamorfosi del capitalismo in Europa del capitalismo in Europa del settore privato che non è altro che il capitalismo secondo quello che si aspettava Marx le aspettative di Marx cioè un sistema parassitario puro e semplice che e lo ribadisco non vuole nient'altro che non vuole più assumere persone e quando si discute con gli esponenti diciamo di questo sistema beh in realtà si capisce molto bene che loro dicono non ne abbiamo bisogno non abbiamo bisogno di nessuno ok nel primi anni 90 in Italia è stata abolita dai governi tecnici una legge del 1936 che impediva la fusione delle banche commerciali con le banche di investimento la domanda è se è auspicabile in Italia reintrodurre quel tipo di separazione sì allora facciamo così a questo punto due domande con risposte secche è una cosa interessante potrebbe essere specialmente per voi che avete studiato la storia del denaro se è vero che Fiat Money i soldi il denaro Fiat che abbiamo descritto in questo seminario in questo summit in realtà esistito da secoli il denaro Fiat in realtà esiste da secoli e non è un'invenzione solamente moderna risposte breve sì esiste da tanto dai sumeri dal terzo bilenio avanti se vedete le vite di Plutarco queste descrivono come il denaro di Sparta veniva fatto da ferro che veniva immerso nell'aceto in modo tale da non poter essere utilizzato la parola numismatica ha come etimologia nomos greco che vuol dire creato per legge per cui la storia ci riporta a 4.000 anni fa la storia del denaro i sumeri Babilonia Sparta Grecia Roma il denaro è stato sempre ha sempre avuto il suo valore attribuito dal governo sempre che il governo lo accetti come forma di pagamento dei servizi pubblici che eroga o come forma di pagamento delle tasse per cui tutto il denaro in ultima analisi è Fiat Money ok un'altra domanda rapidissima avete già fissato la data del prossimo incontro incontro con noi italiani ok adesso mi sentite io sono il manieco delle regole adesso fissiamo una regola facciamo un tributo a queste persone sono distrutti hanno lavorato in un modo incredibile vengono dall'America con il problema nel jet lag lavorato mattina pomeriggio sera dopo cena mattina pomeriggio sera eccetera facciamo un tributo dopo gli facciamo risedere perché vorrei che si rimettessero le cuffie per ascoltare il mio saluto finale a voi che c'entra anche con loro Stephanie Kelton Marshall Black William Wall Street Killer Cop Black Michael Hudson Alain Parguer Bellino Grazie. Ok, adesso vorrei dire una cosa, adesso riporto subito l'umore, questo è importante, questo è molto serio e importante e con questo concludo. Io non faccio ringraziamenti, anche per se devo dire che c'è stato un gruppo di ragazzi che ho conosciuto su Facebook che sono stati incredibili per realizzare questa cosa, hanno lavorato come dei passi. Però io non faccio ringraziamenti perché, perché vedete siamo seri, quando in Sudafrica i neri dell'unconto, che comunque si traduce African National Congress, Nelson Mandela, lottavano per la loro libertà, così come i neri d'America hanno fatto, lottavano, non si incontravano per la strada e si dicevano grazie, sei meraviglioso, oh grazie, ti abbraccio, oh grazie mille, complimenti, eccetera. Questo stesso discorso vale naturalmente per i partigiani italiani che hanno combattuto il nazismo, vale per i partigiani europei, vale per i ragazzi cileni che sono morti di tortura. A 20 anni, 25 anni, chi lotta non si fa i complimenti, quindi noi siamo in lotta e non ci facciamo i complimenti, semplicemente andiamo avanti e lottiamo. E lottiamo per questo, uno Stato a moneta sovrana, legittimato dai cittadini, che spenda questa moneta a deficit positivo per il benessere del 99% dei cittadini, è l'unica vera democrazia e Maria Arca Teracciano è il mio sindacato. Grazie.